Salve web spettatori di NanoTV, siamo a piazza Cesare Battisti davanti al comune di Caivano vediamo il castello in piena ristrutturazione ma si è proceduto anche a liberare la piazza dalle palme che ormai erano malate, come vedete sono state tagliate è stata liberata la piazza anche dalle inferriate che circondavano alcuni giardinetti si spera ovviamente in un recupero del verde perché in questa piazza il verde è sparito proprio e molte le segnalazioni anche dei cittadini che vorrebbero che questa piazza fosse pedonalizzata liberando le aree parcheggio e destinando quest'area ai pedoni, alla città, ai bambini per spostare anche il congestionamento del centro di Corso Umberto spostare la vivibilità anche la domenica qui in questa piazza noi come sempre seguiremo i lavori che si faranno su questa piazza per vedere come sarà utilizzata il nostro invito all'amministrazione è stato fatto quindi vi auguriamo una buona giornata e vi aspettiamo come sempre su napolinord.it e bobsnews.it buongiorno